Musica Buonasera a tutti. L'Associazione Culturale Libercanto, ormai da diversi anni presente sul territorio con il consueto concerto natalizio, a causa delle restrizioni che tutti conosciamo, non ha potuto mettere in atto alcuna programmazione. L'arrivo del coronavirus ha sconvolto in poco tempo la nostra vita personale, sociale e lavorativa, costringendoci a vivere in un clima di disorientamento, di solitudine e di paura generale senza precedenti. Ci siamo trovati catapultati in un mondo che ha trasformato all'improvviso identità e priorità, costringendoci a cercare un nuovo modo per trascorrere le festività. Certo, l'atmosfera natalizia si è respirata, ma in modo diverso, più intimo. Ci siamo sentiti tutti molto soli e soprattutto a noi coristi è mancato lo stare assieme durante le prove. Il vocio è l'allegria di ognuno di noi. È mancato in particolare il contatto ed il calore con il pubblico. Ma il virus non ci può fermare. Il virus non ferma la musica. La voglia di fare è l'entusiasmo delle nostre giovani egoiste, le quali non hanno voluto rinunciare, malgrado le restrizioni, al tradizionale concerto di fine anno, nella modalità consentita dalla legge, al fine di portare un momento di serenità nelle case di ognuno e far dimenticare per un attimo i brutti ricordi di quest'anno, con la magia rivolgente che solo la musica alza a dare. Tutti abbiamo voglia di ricominciare, di vivere, di sperare e noi vogliamo essere portatori di speranza, perché siamo sicuri che ritorneremo a riappropriarci del nostro futuro e della nostra normalità. L'iniziativa rientra tra le attività principali della nostra associazione ed è stata possibile grazie all'ospitalità della nostra amata chiesa di San Biagio. Vi proponiamo un repertorio tradizionale di alcuni brani natalizi, dando vita ad uno spettacolo musicale virtuale con l'intento di studirvi piacevolmente per le atmosfere sempre diverse che caratterizzano le nostre proposte. Nell'attesa di un anno migliore, il direttivo ed i coristi dell'Associazione Culturale Libercanto augurano tutti voi di trascorrere le prossime feste in serenità e salute, in compagnia dei propri cari. Infine, un sentito ringraziamento al nostro parlo, Don Eugenio, per la disponibilità ed il supporto dato, al Sindaco e all'Amministrazione Comunale per l'atteggiamento collaborativo e costruttivo con il quale ogni volta si sono relazionati con la nostra associazione, a Telediamante per le riprese e a tutti quanti ci seguono e ci sostengono. Buon anno a tutti! Grazie 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 a tutti. 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 Grazie a tutti.